bella a tutti ragazzi benvenuti di nuovo su gamespoint oggi siamo su un videogioco se così si può chiamare perché più che altro è una tortura questa cosa non è un videogioco siamo col buon christian e oggi andremo a fare super meatball perfetto avete capito ok allora però con un aggramante esatto abbiamo un joystick per due persone esatto quindi preparatevi a tante bestemme tante imprecazioni e tanti santi giudo andiamo a spiegare come suddividiamo i comandi allora esatto io come potete vedere andrò a correre camminare va bene e sprintare mentre christian da questo lato andrà a saltare e fare tante altre belle cosine ok e possiamo cominciare quindi tieni facciamo partire dal primo livello che non l'abbiamo mai giocato nemmeno mai va bene sì questa parte non mi interessa farlo andare avanti ma sta a livello 1 ok ok vai per adesso perfetto va bene vai avanti fai next perfetto bestemme remu tanto vai vai 2 3 oh mamma mia potentissimo attenzione slatan vai ammacca questo è spettacolo ma non sono un altro diverso adesso appena arrivi sul bordino salta ok tutto a più ragazzi tutto a più dovremo fare vai avanti schiacciati ok ok dai 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 allora via 1 2 occhio piano con calma fermo aspetta ok vai piano piano 2 3 4 5 6 vai 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 tutto il primo gol piano vai piano 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 via 1 2 ok ok vai sali perfetto mamma mia prossimo livello intanto tranquilli stiamo giocando con miliostics pronto vai vai piano vai ok sali piano 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 vai piano vai ok con calma salta perfetto grandissimo mamma mia bomberissimi facciamo tutta la prima parte keep calm and best amia vai 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 ok vai 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 ok salta sì mamma mia attenzione questi livelli sono una cazzatura dice no poi allora ottimo perché c'è del sangue dallo ok vai 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 no mi sembra non è proprio la cosa più corretta da fare aspetta allora devi saltare quando trovo io al bordo pronto vai vai salta non ho saltato più sali 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 ok fermo vai salta perfetto mamma mia ma forse non ho saltato no non c'è bisogno di saltare un po' di due fortine ah ragazzi ok quattro emolliano le cose quindi ah questi contro vai 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 mamma mia perfetto che dobbiamo dire a questi qua non c'è fida ah questo non è questo allora completiamo i primi dieci no vabbè vediamo dove arriviamo vai allora qua sbatti e via quindi vai ah come allora sbatti e via sbatti e via vabbè ok sbatti e via via vai nooo ottimo ok perfetto vai attenzione perfetto grandissimi siamo alla questo è il decimo il decimo riguardo sicuro si adesso passiamo all'undicesimo ah l'undicesimo allora vai questo qua non ci riesco a farlo perfetto facciamo lo scambio lo scambio io ho fatto si perfetto forza vai vai change side eh questo ti muovi o con questo accedi ok ok ci siamo no ok tutto tutto veloce tutto veloce piano lì piano lì fai no 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 nooo no non l'ho fatto dai aspetta 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 porco non lo finire vai hai capito come si fa però vai piano fermo oh vai 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 passiamo mamma mia grandissimo ah sono faccia incompiuta non lo spiego non lo spiego vai vabbè questo è facile ok perfetto ok a sinistra shish shish forza coordinati grande devi saltare è rimasto in da foto di dentro tipo stiamo facendo forza mamma mia attenzione nooo che livello è siamo al 14 no facciamo lo facciamo ultimo nel video saluto colore